La società d'alma della storia patria La società d'alma della storia patria fu fondata dopo un processo di discussioni, di preparazioni teoriche nel marzo 1926, ufficialmente a Zara, auspice da Dante Alighieri, serviva un organismo che diffondesse la conoscenza di cose che gli italiani avevano fatto in Dalmazia per secoli nel campo delle arti, della cultura, della vita sociale. Si tratta di recuperare un'antica comunità che era anche linguistica. L'italiano si parlava in tutto l'Adriatico orientale. Un italiano che era un po' diverso tra i territori veneziani della Dalmazia e Ragusa. La lingua ufficiale della Repubblica di Ragusa, che è autonoma, è l'italiano dal 1400. Tutti i documenti, l'archivio di Stato a Ragusa, tutti i documenti scritti in italiano. Anche i croati hanno un dialetto, quelli della Dalmazia, intriso di parole italiane. Come profugo dell'Esodo, ecco, io devo riconoscere che forse ho sentito meno. Il semplice fatto è che io sono stato ufficiale di Marina, quindi io cambiavo destinazione. Non ho sentito profondamente questo sradicamento che hanno sentito tanti, però sono sempre rimasto attaccato alla storia della Dalmazia, alla nostra storia, la nostra italianità come Dalmazia. Quando invece mi fu suggerito da una nostra amica Zaratida, che io stimavo molto, che si chiamava G.K. Bobic, mi disse perché non vuoi prendere parte alla Società Dalmazia della Storia Patria? Siccome si trattava di entrare in un argomento storico, la cosa che mi affascinava. La società cominciò a operare bene nei primi anni perché fece delle attività locali in riordino di biblioteche e di archivi, contribuendo con le istituzioni pubbliche a recuperare archivi da famiglie che si stavano disperdendo, eccetera. All'inizio degli anni 30, delle discussioni fra alcuni dirigenti, la società rallentò le pubblicazioni, rallentò le attività. Finché fu chiusa nel 1935 e fatta confluire nella regge deputazione di Storia Patria delle Venezie. 43, 44, 45, 46 gli italiani fuggono tutti da Zara. Si arriva al 1961 con la ricostituzione della Società Dalmazia della Storia Patria a Roma, ospitata dalla sede nazionale della Dante Lighieri. Gli artefici di questa ricostituzione furono soprattutto il dottor Maglio Cace, i fratelli Tacconi, l'architetto Fasolo, Giust Verdus ed altri. Si sono poi succeduti ulteriori presidenti, Pavan, poi Gracciotti, l'attuale Zorzi. La differenza fra la Società Dalmazia della Storia Patria dei primi anni e della Società Dalmazia come è diventata adesso è che adesso questa funzione politica, fra virgolette, è in parte scomparsa. Noi come soci della Società Dalmazia della Storia Patria, studiosi, ricercatori o cosa siamo, facciamo ricerca storica. Non solo la storia politica ma anche la storia economica, la storia dell'arte, la storia della musica. L'importanza della Società Dalmazia della Storia Patria di Roma è il fatto che questa storia venga a Roma, cioè in una parte dell'Italia molto lontana da Venezia. Quindi si tenga presente questa pagina di storia in un territorio che non ha una grossa sensibilità né un grosso legame con l'altra parte della Triatua. Uno stemma che è lo stemma della Dalmazia, cioè uno scudo azzurro con tre teste di, dovrebbero essere dei leoni in leopardati, mi pare che si dica in araldica, color oro con la lingua rossa. In anni recenti lo stemma è stato trasfuso da posti italiani in un francobollo che è stato fatto per gli 80 anni della Società nel 2006 ed è stato un bello omaggio. Non è facile in Italia che una Società di studi storici abbia, abbia una, gli sia dedicato un francobollo. In più, la Società è stata decorata dalla medaglia d'argento dei benemeriti della cultura dal Presidente della Repubblica, sempre in occasione dell'ottantesimo anniversario nel 2006. Quindi studiare i rapporti di un tempo. La presenza degli slavi in Italia, la presenza soprattutto degli italiani in Dalmazia. Quindi il problema è di non perdere la memoria a noi e di non farla perdere ai nostri dirimpetrai. Mantenere questa memoria condivisa in uno spirito possibilmente di amicizia. Effetti li abbiamo avuti. Nella costa d'Almata, adesso e anche nelle isole, abbiamo delle comunità italiane legalmente costituite. Quarant'anni fa era impossibile pensarlo. Oggi c'è a Zara la comunità degli italiani Zaratina, riconosciuta non solo, ma in parte finanziata dall'amministrazione comunale. e adesso ha preso il via anche una scuola italiana per bambini. La stessa cosa avviene nelle isole. C'è un'isola di Lesina. L'isola di Lesina, Chovar in Croazio, i nostri ragazzi non sanno più che cos'è l'esina, è Chovar. E c'è una comunità italiana. A Spalato c'è una comunità italiana. Quindi si tratta di studiare e di rendere noto cosa è successo nei secoli a questo popolo oramai in parte dimenticato. A Spalato c'è una comunità italiana. A Spalato c'è una comunità italiana. A Spalato c'è la comunità italiana. Grazie.